Salve amici di youtube e benvenuti in questo nuovo video di spiegazioni delle sponsorizzazioni facciamo così come si chiama lui, ma dobbiamo capito. Allora, prima di tutto non capisco, non voglio criticare, non mi interessa tanto alla fine nessuno non me lo dirà mai perché quasi non dico in tutti i miei video ma in alcuni video mi sono, anzi nell'ultimo video facciamo proprio perché nell'ultimo c'è una spiegazione logica mi son beccato due non mi piace così al nastro perché poi il bello è che qua ci sono i commenti anche perché i commenti non mi danno l'aiuto capito quindi c'è Black Sea Devil so che mette mi piace, The Darkness Gate so che mette mi piace, Dr. Cobris che mi avete molto abbastanza lotto le palle con questa storia perché molti di voi mi dicono che io sono amico del Dr. Cobris perché voglio avere le sponsorizzazioni da lui quando non è effettivamente vero perché io e lui se volete ci siamo anche su Skype e ci parliamo molto spesso quindi non mi sembra che io voglio rubare iscritti da lui perché veramente questa cosa mi ha dato un po' fastidio Dr. Cobris è un amico e soprattutto è un grande, è un grande youtuber e io so già che farà molto successo avrà anche più di 10.000 iscritti e lo spero per lui e anche molti di più se viene conosciuto io non mi sento un youtuber che vuole diventare famoso anzi perché come ho già detto nei miei video io non lo faccio per i soldi io vi posso far vedere anche pure nel mio canale guardateci anzi ho fatto anche il mini concorso di TecnoTube ho fatto un... perché ha voluto fare... mi ha chiesto di mettere un mio video nel suo canale e lui c'ha 500 iscritti e come ha detto anche lui non si crede un grande youtuber non è né grande né... non è neanche... non si crede chissà chi quindi ragazzi io vi posso anche far vedere una cosa sulle impostazioni aspettate... ma sì no andiamo su gestione video proprio per dire... proprio per farvelo entrare in testa sì io c'ho sempre questa cosa delle unghie sì ce l'ho sempre in mano mi dà la tensione ecco ve lo faccio vedere c'è anche zoomare ve lo posso vedere guardate c'è scritto RPM Networks è una partner dove io non guadagno niente sì leggerete pure non ha una buona reputazione perché uno mi ha come qualcuno che non so chi ci sono 300 milioni di video di... come installare millilice action e uno me l'ha segnalato come copyright perché... gli sto sul cazzo anche se non gli ho fatto magari niente perché non sono una persona che... che stronza con la gente quindi... non lo so però comunque per farvi vedere RPM Networks e anche quando avrò 4.000 o 3.000 iscritti non cambierò la partnership la tengo così perché i soldi a me non me ne sbatte un cazzo ve l'ho sempre detto io non ho problemi anzi se volete in ogni mio video vi faccio vedere ogni volta che vado su... su qui su funzioni impostazioni canali vi faccio vedere che c'ho la RPM Networks e che non metterò mai Social Blade eh... quegli altre società che ti danno soldi comunque avete capito quelle società lì quindi ragazzi io francamente non me ne sbatto una micchia di leccare il culo a Dottor Kobitz perché Dottor Kobitz è un mio amico ed è un grande anche lui mi dice a me che sono un grande quindi ve lo posso anche dimostrare che... che mi dice anche lui che sono un grande su Skype vi faccio vedere alcuni commenti che mi ha scritto vedete Sergione ce l'ho come amico eh... e lui mi ha scritto qui anche tu... aspettate... ecco qua mi ha messo la V con il 3 e mi ha scritto anche tu sei un grande io adesso non so se ve lo posso zoomare comunque me l'ha scritto Sergio oggi alle 2.26 sono le 2.46 quindi ragazzi io non so che dirvi non mi sento una persona che vuole leccare il culo alle persone perché non mi sento a mio agio a parte che non è il mio carattere quindi soprattutto non me ne frega niente ma soprattutto mi da fastidio che le persone criticano molto alcuni che non gli hanno mai fatto niente nella vita perché io dico... voi sapete ad esempio no? voi seguite dei canali che sono diciamo famosi e quelli la non vi... non vi... non gliene frega niente magari di voi non sanno manco chi siete invece gente tipo come me che io voglio... a me piace sponsorizzare canali l'ho sempre fatto quindi se vedete i miei video ci sono un sacco di video sponsorizzazione e lo faccio per aiutare quelli che vogliono aiutare si prendono più merda di quelli che invece non vogliono gliene sbatto un cazzo di voi e invece a voi mi piace prendere... trattare da gente di merda tipo come il mio amico 85ago il mio fratellone lo possiamo chiamare io e lui ci definiamo fratelli e ho gente tipo Black Is Is Devil, It's Ghost Death, Anime Manga Ita tutti quei canali che comunque meritano che fanno veramente video per passione tipo Anime Manga Ita che fa video per passione perché parla di manga e anime e gente tipo non dico che io sono un grande youtuber non mi definisco manco un grande youtuber perché sono un ragazzo come tutti gli altri solamente che ha più età perché la maggior parte di quelli che mi mettono non mi piace e commentano brutti i commenti saranno ragazzi comunque di 15 16 anni un 21 anni non penso che il suo cervello sia arrivato fino a quel punto e non è per offendere i 21 anni perché anche io sono 21enne però non mi ritengo una persona così immatura come si può dire quindi è solo una mia opinione come ho saputo nei miei video c'è un'opinione non è niente di... non sto offendendo nessuno e non sto criticando nessuno è solo un commento, un'opinione quindi volevo anche parlare di questa cosa allora nei miei video d'ora in poi spero lo metterò qua nel canale impostazioni adesso non mi ricordo dove si mette questa cosa ah no ecco gestione video quindi questo video che vedrete sarà quello proprio che troverete in ogni mio video prima di chiedere le sponsorizzazioni impostazioni canale credo che sia da qualche parte qui ecco qui, qua qui metterò un po' di invio e qua metterò ve lo faccio vedere proprio in diretta prima di chiedere la sponsorizzazione guardare guardare questo video così metterò poi il link qua di questo video quando l'avrò finito ma non... non lo sto scrivendo per questa frase prima di chiedere la sponsorizzazione guardare questo video come per dire dovete guardarlo perché... perché dovete, punto no, è perché prima di chiedermi mandarmi messaggi privati con scritto mi sponsorizzi e io ricambio questa cosa mi da un po' fastidio perché adesso io farò due opzioni così capirete meglio perché mi da fastidio allora quelli che mi seguono e mi commentano e mettono mi piace o non mi piace ma devono specificare il perché mettono non mi piace perché se io non vedo il commento a quella persona non la sponsorizzo perché dai commenti che io capisco se una persona mi guarda o meno quindi... quando una persona mette mi piace e... e commenta io due volte alla settimana sponsorizzerò quei canali ok? quindi sarà una cosa aggiuntiva e saranno messi pure in descrizione del canale dei video quindi ci saranno dei link in descrizione che troverete tipo William29447 The Darkness Gate Spartan Universe Animal Angaita Dr. Koblitz lo metto anche lui in descrizione perché guarda i miei video queste persone le metto in descrizione e anche nei... due volte alla settimana faccio un video sponsorizzazione dove parlo sia dei canali faccio vedere il loro canale e parlo di che video fanno proprio per aiutare però quelli che invece non... non mi seguono e non prendetela a male cioè adesso non vi offendete perché a voi vi tolgo delle cose vi tolgo delle cose perché è giusto cioè se no sarei veramente stupido mentalmente se io dovessi essere buono con tutti quanti ma la gente poi mi... me la mette dove dico io questo vuol dire essere stronzi ma non io voi perché voi sapete che io sono buono e invece di dire invece cazzo aiutiamolo seguiamolo che non vi sto obbligando ma... non penso che tutti quanti non vediate i miei video cioè non penso che io faccia video veramente di merda spero di no però quelli che diciamo non mi seguono e mi mandano i messaggi privati come tipo non qua andiamo qui posti in arrivo tipo messaggi che adesso mi sono arrivati di mondo giochi 987 che... gli ho mandato già un messaggio eh... gli ho mandato un messaggio privato con scritto eh... lui mi ha scritto a me in pratica che mi voleva... che... porca miseria perché i messaggi non li... non li salvo vabbè gli ho scritto in pratica che prima di sponsorizzarlo devo... deve decidere tra le due opzioni quale scegliere se seguirmi e mettere mi piace nei video e lo sponsorizzo due volte alla settimana o... o farlo una volta e basta perché questa sarà la nuova categoria delle sponsorizzazioni quindi chi vuole una sponsorizzazione deve guardare questo video allora chi mi segue mette mi piace non mi piace commenta e dice però il motivo perché mette non mi piace o mette mi piace perché gli è piaciuto il video verrà sponsorizzato due volte alla settimana e messo sempre in descrizione non nei canali principali perché i canali principali se metto un casino di gente non si capisce nulla e la gente non... non... non si iscrive a quei canali quindi quelli lì metterò solo i canali che mi hanno seguito da un sacco di mesi quindi un bel po' di mesi quindi in quello sarà un'altra categoria lo metterò nei canali consigliati in descrizione e due volte alla settimana lo sponsorizzo vi faccio vedere proprio il canale chi non mi segue come ho già detto prima non prendetela a male verrà sponsorizzato solo una volta perché mi hanno dato il messaggio privato metto sponsorizzami e basta fanculo poi di te non mi interessa quindi non prendetela a male siete voi che mi avete scritto sto messaggio mi avete scritto voi che volevate una sponsorizzazione però che non mi volevate seguire quindi non è colpa mia ragazzi io vi ho detto la sincerità io sono troppo sincero con le persone voglio essere sincero con voi non voglio che voi mi trattate come un pezzo di merda come alcuni che voi alcuni youtuber famosi perché non sono così non voglio essere un youtuber famoso neanche se lo diventerei perché non lo diventerò però ammettiamo che lo diventerò io non mi non non smetterò di fare quello che faccio sempre cioè non mi dimenticherò delle persone che sponsorizzo quindi lo so che poi magari se avrei molti più iscritti sarà un bel casino fare video sponsorizzazioni e questo lo capisco e infatti troverò un metodo per farlo cioè se io avrei anche 3.000 iscritti e ho 1.000 iscritti che mi seguono parlerò che ne so di 20 canali al giorno farò che ne so durante la settimana 3 video sponsorizzazione quindi non sarà più 2 volte alla settimana sarà una volta alla settimana perché farò 20 40 60 80 e parlerò di tanti canali quindi troverò un metodo comunque ci riuscirò prima o poi a mettere tutti i canali in descrizione e anche parlandone di quei canali e poi sarà un po' anche difficile sponsorizzare tutti perché o capisco che se magari ci avrò molte persone che mi seguono mettono mi piace commentano e poi vogliono la sponsorizzazione sarà un po' difficile farlo però tenterò di riuscirci io spero di aiutare il massimo possibile poi magari farò anche un forum dove se avrò molto più più avanti che metterò fare un forum dove potete mettere i vostri canali mettere i vostri video mettere tutto quello che volete proprio per aiutarvi io farò di tutto ragazzi cioè io non mi voglio voglio applicarmi voglio essere un youtuber diverso e soprattutto farvi divertire con i video che faccio tipo video del passato video del presente video del futuro e fare in modo che ognuno si diverta sia nel mio canale e che comunque abbia un piccolo aiuto che possa dargli una mano ad andare più avanti nel canale quindi ragazzi io non so più che cosa dire metterò in descrizione comunque le varie opzioni quindi in questo video vedrete soltanto non i canali che metterò come al solito i miei video ma vedrete opzioni 1 quelli che mi seguono e mettono mi piace commentano o quelli che mettono non mi piace commentano il motivo spero che lo metteranno sempre non mi piace nei miei video spero che in alcuni magari che non gli piace minecraft proprio perché minecraft è una rottura ma giorni too serious mi sembra un po' strano che mi hanno messo non mi piace così anche the dropper 2 anche dropper 2 pensavo che sarebbe piaciuto soprattutto perché siamo in 3 e facciamo ridere cioè ci divertiamo in questi video quindi speravo invece di farli divertire invece ho beccato due non mi piace così però vabbè è un parere di uno però dovrebbe anche scrivermi un commento qua con scritto perché hai messo il non mi piace io non ho mai messo il non mi piace a nessuno manco i video più più assurdi che ci sono perché non sono il tipo non mi piace mettere non mi piace non mi piace è una cosa brutta da mettere a un canale è un mio parere quindi lo so ecco come tipo megakira11 che mi ha chiesto la sponsorizzazione se mi seguirà se mi seguirà bene se non mi seguirà fa niente io so posso anche sponsorizzarlo adesso se voi siete riusciti a vedere il mio canale fino in fondo e questo è proprio un esempio per metterlo nel canale in questo video così la gente che guarderà il mio video saprà che questa persona l'ho sponsorizzata per farvi vedere l'esempio anche così sapete che lui se mi seguirà sarà sponsorizzato anche più volte se non mi seguirà una volta è basta lui fa video sui pokemon quindi ragazzi è un amante di pokemon sta facendo una serie infatti fa video sui pokemon tutoria come installare minecraft sp tutoria su come installare la texture pack di minecraft tutoria come installare mini mappa sempre di minecraft e anche delle guide sui pokemon che ve l'ho già detto fa anche delle custom map di minecraft misteri di snow city snow city quindi lui piace molto pokemon si infede già perchè gli piace pokemon pokemon e minecraft quindi spero di averlo sponsorizzato scusami per questo video che ho fatto in questo video cioè questo scusa allora mi dispiace se ti ho sponsorizzato in questo video ma almeno la gente sa comunque un esempio di persone che mi seguono o io non so se tu mi seguirai tante volte adesso o una volta e basta e quindi ti ho usato come esempio proprio perchè mi ha mandato quel messaggio poi se tu mi seguirai tante volte ti sponsorizzerò anche altre volte se no una volta e basta scusami non voglio fartelo per dispetto non sono uno che fa gli spetti alle persone ma è perchè non voglio essere preso in giro perchè ho 21 anni mi piace fare video mi piace aiutare gli altri ma gli altri quando quando mi chiedono la sponsorizzazione stanno benissimo che loro pensano subito che non che me la possono mettere lì dietro e a me mi da molto fastidio perchè magari c'ho 4 o 5 anni più diversi dai suoi e mi da abbastanza fastidio quindi non te la prenderà male anzi ti sto facendo un video sponsorizzazione ho parlato del tuo canale di di che cosa fai di pokemon che ti sei uno specializzato di pokemon perchè si vede che ti piace pokemon e fa anche dei gameplay su Yu-Gi-Oh quindi non so se continuerà la serie di Yu-Gi-Oh e ha fatto la sua intro che è qua sigla del canale quindi ragazzi per questo video è tutto spero di essere stato abbastanza chiaro e avervi fatto capire finalmente queste due piccole regole di questo canale delle sponsorizzazioni appunto e quindi per questo video è tutto un saluto da Bayou Community ciao a tutti